Al Museo di Cesano il Paradiso a due passi, una mostra fotografica di Mario Maggiordomo, il Paradiso a due passi a Caltanissette. Allora nasce per la passione, per la natura, per la fotografia, unite insieme, ho pensato di realizzare degli scatti presso il Redentore, perché lì c'è proprio una distesa, terreno incolto, anche se ci sono tanti villini, e ho visto che c'erano parecchi uccelli da fotografare. Così mi sono appostato, ho fatto un capanno. Un grande lavoro di osservazione. Sì, nasce dal fatto che appostandomi avevo notato che c'erano diversi uccelli in avifauna. Così, con la mia attrezzatura, ho creato un habitat possibilmente più naturale possibile per poterli fotografare. Possiamo parlare appunto di questi esemplari. Sì, in questo caso qua c'è la ghiandaia, che per fotografarla ho proprio messo delle noccioline, noci, per attirarla. Questa è stata fotografata a una distanza di circa tre metri e mezzo. Quasi tutte le fotografie sono a pieno formato, non sono croppate. Infatti, possiamo vedere tutti gli sfondi sfocati, il massimo dettaglio proprio sul ricercato nell'occhio, i colori, per far risaltare i colori. Come si inserisce questa mostra nell'ambito del Museo di Cesano? Abbiamo noi accolto volentieri questa opportunità di esporre appunto delle immagini di fauna del nostro territorio. E l'abbiamo accolta proprio perché Ben può rispondere a quella che è la missione, diciamo, di un Museo di Cesano. Il Museo di Cesano ha come obiettivo fondamentale far conoscere le opere d'arte che si ispirino appunto a quello che è il Vangelo, la storia della Bibbia, che è stato appunto un grande patrimonio a cui tutti gli artisti hanno attinto. Da sempre la creazione di Dio è stata considerata, la creazione proprio che si manifesta nella natura, è stata considerata come una prova, una testimonianza dell'esistenza di Dio.